Buonasera a tutti, aggiornamenti da Milanello per quello che è stato l'allenamento di oggi alla vigilia di Milan-Venezia, gara molto importante perché il Milan deve cercare di tornare al successo dopo il pareggio in casa della Juve. Il Milan ha provato a recuperare qualche giocatore dall'infermeria, sono attualmente 8 i giocatori alle prese con problemi fisici, chi muscolare, chi di altra natura, ma la notizia è che nemmeno Olivier Giroud sembra essere a disposizione per la gara di domani. Il giocatore ha svolto un allenamento individuale sul campo, questo vuol dire che rispetto a ieri ha fatto un piccolo passo in avanti e in miglioramento perché si è allenato col pallone ma sul campo, il fatto è che non si è allenato con il resto della squadra, tant'è vero che l'attaccante francese è uscito dai cancelli di Milanello proprio quando il resto del gruppo rosso-nero si stava allenando e stava preparando la formazione o comunque la parte tattica per sfidare il Venezia. Quindi questa è un'indicazione molto importante per il match di domani, molto difficilmente vedremo Olivier Giroud nella lista dei convocati che comunque verrà diramata solamente nella mattinata di domani quindi vedremo se da qui a domani mattina ci saranno delle sorprese, degli sviluppi ma evidentemente è difficile che il francese possa prendere parte alla partita anche perché questo problema alla schiena, questa lombalgia va affrontata comunque con cautela, è inutile affrettare i tempi e rischiare un giocatore per poi perderlo per più partite e questo è il ragionamento che viene fatto a Milanello. Tra l'altro il Milan sfida Venezia e Spezia e poi avrà due incontri ravvicinati molto importanti contro l'Atletico Madrid in Champions e l'Atalanta quindi il Milan spera di recuperare per quelle due partite lì della settimana prossima praticamente un po' tutti i giocatori sperando di svuotare finalmente queste infermerie. Dicevamo sono otto i giocatori quindi attualmente indisponibili, Giroud ci sembrava il giocatore un po' più vicino al recupero però diciamo che non ci sono ottime sensazioni da Milanello, c'è ancora da aspettare. Per quanto riguarda Ibrahimovic anche lui sta facendo dei lavori ancora personalizzati, sta cercando di smaltire questo fastidio al tendine d'Achille quindi evidentemente non c'è ancora l'ok per il ritorno tra i convocati di Ibrahimovic. Quindi i due attaccanti saranno assenti due bomber principali, assenti anche Calabria e Kier e siamo a quattro, Bakayoko, Krunic, Plizzari e Messias, gli altri quattro, ancora fuori. Quindi in totale sono altri otto assenti per la gara contro il Venezia. Il Milan ha provato comunque l'undici che dovrà sfidare domani la squadra neopromossa e in questi undici ci sono un paio di ballottaggi. Il primo riguarda Florenzi, potrebbe giocare lui, vedremo se è al posto di Saleme Kerso o al posto di Calulu ma è possibile che ci sia più una conferma per Calulu perché ha fatto davvero bene quando è entrato in campo contro la Juventus. Attenzione poi anche all'ipotesi gabbia perché il giovane difensore centrale rosso-nero potrebbe avere una chance, visto che comunque Tomori ha sempre giocato tanto, è un difensore inamovibile per quanto riguarda Stefano Pioli, potrebbe anche avere un turno di riposo contro un avversario che sulla carta, e specifico sulla carta, non dovrebbe essere irresistibile per il Milan, però il calcio è davvero imprevedibile. Quindi attenzione anche alla possibilità di vedere in campo il giovane gabbia, prodotto del settore giovanile rosso-nero, accanto a Capitan Romagnoli con Teo Hernandez sulla sinistra. Abbiamo detto quindi in porta Mike Mignan, a centro campo potrebbero esserci anche lì delle novità, perché Franchesi non è al meglio della forma, ha giocato tre partite di fila in campionato, tra campionato e Champions League, quindi evidentemente non è ancora al top, soprattutto dopo aver subito quell'infortunio che l'ha tenuto fuori per un mese. E poi anche per una sorta di possibilità per Benasser, perché comunque non ci dimentichiamo che Benasser è uno dei giocatori più importanti di questa rosa e quindi giustamente Stefano Pioli vuole dare una possibilità a tutti e lo abbiamo visto entrare anche abbastanza bene contro la Juventus. Quindi doppio play possibile a centro campo con Chessi fuori, quindi Tonali e Benasser dal primo minuto. Tonali naturalmente centrocampista che in questo momento sta dando grande qualità e grande quantità al Milan. Un giocatore totalmente ritrovato, perno della linea mediana colonna di questo Milan. Quindi Benasser è Tonali a centro campo, in attacco abbiamo detto Florenzi in vantaggio su Saleme Kerri, che comunque deve avere anche lui dei turni di riposo, un po' di sosta tra una gara e l'altra. Non c'è invece sosta per Brian Diaz, il numero 10 spagnolo, non c'è sosta nemmeno per Leao e soprattutto per Anterevic. Sarà ancora il Croato a dover trascinare questo Milan, sta facendo davvero benissimo in questo inizio di stagione. Lui che solitamente entra in forma sempre nel giro di ritorno, questa volta sta facendo al contrario. È partito da davvero come un fulmine, ha segnato già un gol e fornito due assist in questo avvio di stagione, più il gol ad Anfield contro il Liverpool, quindi tutto il peso dell'attacco sarà sulle spalle del croato Anterevic, che lo vediamo anche pronto mentalmente, concentrato sul pezzo. E poi attenzione anche all'ipotesi Pietro Pellegri, perché il giovane in prestito con diritto di riscatto dal Monaco vuole giocarsi le sue carte, fino ad ora non è stato utilizzato nemmeno un minuto da Pioli, però era già tra i convocati con la Juve e vediamo se domani avrà uno spezzone di gara. È stata una giornata importante anche per fatti extracampo o meglio relativi alla partita contro la Juve, quando un paio di tifosi bianconeri hanno insultato con delle parole molto gravi e parole razziste Mike Magnan, il Milan e la Juve si sono subito attivate per individuare questi personaggi, queste persone e da quello che ci risulta sono stati anche individuati, tutto questo anche grazie all'utilizzo dei social, che per una volta hanno comunque avuto un ruolo importante perché è stato messo alla luce questo episodio, l'episodio è stato segnalato ai due club che poi si sono messi in contatto per aprire un'indagine e per cercare di individuare questi personaggi. Cori molto gravi all'indirizzo di Mike Magnan, lo condanniamo assolutamente, condanniamo ogni forma di razzismo, il Milan su questo fronte è molto attivo, è una delle società più attive in Italia, è un club che storicamente ha lottato per evitare ogni forma di razzismo anche nei confronti ad esempio di Bakayoko contro la Lazio, ha segnalato alla procura federale gli episodi dei cori dei tifosi laziali nei confronti di Bakayoko e la FIGC ha poi aperto un'inchiesta, un'indagine. Ecco il Milan sotto questo punto di vista, sotto questo fronte è sempre molto attivo, ci fa davvero piacere che sono stati trovati i colpevoli di questo bruttissimo gesto nei confronti di Mike Magnan. Ci vediamo domani per la partita con nuovi video, naturalmente se nel corso della serata ci saranno novità per quanto riguarda la formazione vi forniremo tutte le informazioni necessarie, nella giornata di domani naturalmente pre-gara e poi il match in serata a San Siro per Milan-Venezia. A presto!